Quello di oggi è stato il gran giorno dell'inaugurazione della strada pendolo a Pescara. Dopo decenni di attese e promesse in evase, il capoluogo adriatico potrà da oggi fruire finalmente di un'arteria fondamentale per la viabilità un'infrastruttura che rientra tra gli interventi di riqualificazione della parte ovest del capoluogo e che punta inoltre a ridurre i volumi di traffico sull'intero territorio comunale. Al taglio del nastro questa mattina c'era la maggioranza di governo cittadina quasi al completo. Come ha spiegato il sindaco Carlo Masci era da metà anni settanta che si pensava alla realizzazione della strada pendolo. Oggi noi inauguriamo il primo tratto, il più importante, quello che collega la Tiburtina con via Salaravecchia. Oltretutto in questa zona c'era un degrado assoluto, drogati, spacciatori, c'era veramente di tutto e i cittadini della zona vivevano in condizioni veramente drammatiche. Oggi invece c'è una bellissima strada, un bel viale con verde, piante, pista ciclabile e poi continuerà con l'altro tratto che parte da San Donato e poi il terzo tratto di via Pantini. Questo percorso permetterà di arrivare da Francavilla ai colli di Pescara passando per San Donato, Villa del Fuoco e l'ospedale senza passare per il centro della città. Quindi non intasando il centro, alleggerendo la viabilità in una condizione ottimale. Sono passati tantissimi anni e nessuno riusciva a fare questa strada perché non si volevano espropriare i terreni. Noi siamo arrivati, abbiamo espropriato i terreni e oggi ci sono le strade che stiamo realizzando. Fra 20 giorni inaugureremo l'altro tratto e a settembre il terzo tratto avremo completato il lavoro che durava veramente da tantissimi, tantissimi anni. Raggiante l'assessore alla viabilità Luigi Albore Mascia che con il suo assessorato è al lavoro per una città meno ingolfata di traffico e sempre più a misura d'uomo. Durante la mia amministrazione inaugurammo quella di via Lago di Capestrano, oggi invece inauguriamo un altro tratto in attesa di quello definitivo e finale per una sorta di circonvallazione cittadina, io la definisco così, che ha una funzione strategica importante sull'alleggerimento del traffico, soprattutto sulle strade laterali, sul traffico locale che quindi può essere utilizzato anche da pedoni, può essere utilizzato da ciclisti, anche per la mobilità sostenibile, in maggiore tranquillità rispetto ai flussi di traffico veicolare.